Quest'anno sono trent'anni dalla firma dell'Accordo di Pace, il 4 ottobre, domenica, del 1992. Andrò in Mozambico per celebrare con la chiesa mozambicana e con le istituzioni del Mozambico una data che è ovviamente importantissima perché ha rappresentato la fine di quella pandemia che aveva sconvolto il paese per tantissimi, troppi anni. Ricordare quella celebrazione ci fa accorgere ancora di più della violenza che colpisce tanti paesi, tra cui anche lo stesso Mozambico. Nel nord del Mozambico vi sono migliaia di sfollati e purtroppo anche tante persone vengono uccise da una guerriglia islamica che compie delle efferatezze terribili e destabilizza l'intera area. Forse infine la pace del Mozambico ci fa credere che la pace è sempre necessaria, ma è anche sempre possibile, ma richiede tanto impegno. Viviamo confrontati con la pandemia della guerra, certamente trarrò da questa visita dalla celebrazione della pace una motivazione ulteriore per essere di uomini di pace, per combattere ogni tipo di violenza, per pregare e operare per la pace nel mondo.